Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il Comune di Nocera Superiore ha predisposto un piano di sicurezza per le visite al cimitero, al fine di rispettare i provvedimenti in vigore per limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'ingresso verrà contingentato, consentendo la presenza in contemporanea all'interno della struttura a un numero limitato di persone, per garantire il distanziamento sociale, con controlli anche all'esterno del Campo Santo. Abbiamo ritenuto con gli uffici preposti di non effettuare una chiusura in alcuni giorni della settimana, il cimitero rimarrà aperto. Abbiamo emanato un'ordinanza sindacale che però prevede gli ingressi in un numero massimo, 30 persone che saranno dirette dagli operatori del servizio cimiteriale sia all'ingresso che all'uscita del cimitero. Quindi ci sarà un operatore all'ingresso e un operatore all'uscita che seguirà il flusso all'interno del cimitero. E avremo nel piazzale antistante il cimitero invece la polizia municipale alla quale è stata ordinata di effettuare la vigilanza esterna. Quindi tenteremo di mantenere l'ordine che già l'anno scorso siamo riusciti a garantire, evitando con chiusure in giorni specifici di limitare l'accesso, perché questo potrebbe portare a un'affluenza più massiccia in determinati giorni. Quindi tentiamo di lasciare aperto il cimitero scaglionando soltanto gli accessi. Purtroppo non potremo commemorare né i nostri defunti, se non in forma individuale, ciascuno con i propri affetti e nel rispetto delle norme anti-Covid, né potremmo onorare la memoria dei nostri caduti. I carabinieri, il carabiniere Pezzuto e Arena, che ogni anno commemoriamo insieme all'arma dei carabinieri presso il cimitero comunale.